Canna Longa, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione del centesimo compleanno della signora Tomeo Francesca. Andiamo nel Corso Europa e più precisamente nel Vico Affritti a fare gli auguri a questa nonnina e ai suoi familiari. Signora Andaniella, che significa per voi festeggiare i cento anni di vostra mamma? Bello, è commovente. Ci puoi riassumere tu quanti siete in famiglia, quindi dai figli ai nipoti e pro nipoti? Allora, quattro figli, di cui uno è morto, nove nipoti e otto pro nipoti. E mi trovo insieme a Carlo Tangri, impegnato nella Proloco, pro nipote di zia Francesca. Allora Carlo, che significa per voi, pro nipoti e per tutta la vostra famiglia, questo pomeriggio nel festeggiare appunto nonna Francesca? In realtà è una fortuna perché ovviamente non molti raggiungono questa età, quindi siamo già fortunati ad averla qui ancora con noi, sperando che comunque possa restare almeno in saluto come sta ora. È un'emozione. C'è stata la celebrazione della Messa e tu hai suonato, diciamo, il palo mio, nemico a Dio, 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 nemico a Dio. C'è stata la celebrazione della Messa e tu hai suonato, diciamo, i vari canti e soprattutto un canto che tua nonna ha qui molto legato. Sì, nonna da sempre ha partecipato sia alla confraternita di Santo Turibbio, partecipato al cammino quando l'intera comunità va a trovare la Madonna sul Monte Gelbison ed era affezionata. infatti ha partecipato sempre, tanto è vero che quando, diciamo, la processione passa sotto casa sua qui nel Rione si affaccia sempre, anche, diciamo, ad oggi che è centenaria, insomma. Buonasera! Buonasera! Tanti auguri! Buonasera! Buonasera! Grazie.